È stata la prima patata bollente della giunta Marchioni fin dal suo insediamento, con polemiche a distanza quasi continue per diversi mesi tra l'amministrazione e il Partito Democratico. Ora c'è una certezza, fino al 31 dicembre il commissariato di Omenia rimarrà presso l'attuale sede di via Comoli, mentre nel 2019, magari già a partire dal 1 gennaio, ci sarà il trasferimento nell'edificio dell'ex giudice di pace. La querelle ha segnato, come detto, le cronache omeniesi di fine estate e dello scorso autunno. L'amministrazione in un primo momento sembrava propensa a una soluzione alternativa a quello cui aveva pensato avviando peraltro tutto l'iter necessario la giunta a Mellano. Soluzione cercata ma mai trovata visto gli ostacoli per le varie ipotesi su tutte quella della ex Villa Lagostina e così la scelta è stata quella di avallare la soluzione dell'ex giudice di pace. Il progetto per la ristrutturazione di questo edificio, spiega l'assessore ai lavori pubblici Stefano Strada, è diviso in due lotti. Il primo di 80 mila euro a bilancio 2017, il secondo di 67 mila euro nel bilancio 2018. Il prossimo mese ripartiranno i lavori per terminare il primo lotto e l'obiettivo è chiudere il tutto entro fine anno per poter consegnare lo stabile alla polizia per gennaio 2019. Si tratta essenzialmente di lavori di natura edile e legati all'impiantistica senza dimenticare la regolamentazione dei posti auto, la recinzione e la videosorveglianza, conclude il vice sindaco. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.